Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Palermo e dall'arresto di due poliziotti in servizio alla squadra mobile. I due sono accusati di corruzione, ma per tutti i dettagli vediamo il servizio. Due poliziotti in servizio alla squadra mobile di Palermo sono stati arrestati dalla Polizia di Stato su ordine del GIP con le accuse a vario titolo di corruzione, peculato e falso materiale e ideologico. Si tratta di Salvatore Graziano, 56 anni, e Fabrizio Spedale, 54 anni, sovrintendente capo e vice sovrintendente. L'indagine è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Nell'inchiesta è coinvolto uno spacciatore, Ignazio Carollo, 42 anni, anche lui finito in carcere. Nel corso delle indagini è emerso che il sovrintendente capo avrebbe ricevuto denaro dallo spacciatore in cambio di informazioni su attività investigative in corso. I due poliziotti, inoltre, in due diverse occasioni, a seguito di alcuni sequestri di droga, avrebbero sottratto parte della merce e l'avrebbero fatta avere al pusher perché la rivendesse. Gli indagati sono anche accusati di aver falsificato i verbali di distruzione dello stupefacente. Avrebbero finto, in questo modo, lo smaltimento della droga sequestrata. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Catania, parliamo dei controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato nel quartiere di Librino. Otto persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Il servizio. Nell'ambito di una più ampia intensificazione degli ordinari servizi di controllo del territorio disposta dal questore di Catania per innalzare i livelli di sicurezza pubblica, soprattutto in contesti caratterizzati da varie forme di illegalità, sono stati predisposti mirati servizi nel quartiere di Librino, svolti con l'impiego di equipaggi delle volanti del commissariato di Librino e del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato, con il supporto di equipaggi della Polizia Locale Settore Viabilità. Nel corso dei controlli, il personale del commissariato di Librino ha denunciato in stato di libertà due persone. Il primo, un ventenne, è stato segnalato all'autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Paternò, poiché, per l'appunto, è stato trovato in un comune diverso da quello previsto dalla misura di prevenzione irrogatagli. L'altro, invece, è un 45enne denunciato per furto di energia elettrica, poiché, durante le attività di perlustrazione, gli operatori hanno riscontrato l'allaccio abusivo alla fornitura di elettricità della sua abitazione. Analogamente, durante i servizi, la Polizia ha deferito all'autorità giudiziaria altre sette persone responsabili dello stesso reato. Nello specifico, nel corso di mirati controlli a persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari all'interno di un condominio di Viale Grimaldi, gli operatori hanno constatato il possibile furto di energia elettrica e, pertanto, hanno richiesto l'intervento di personale specializzato del servizio elettrico, insieme al quale hanno eseguito approfondite verifiche, accertando che diverse unità ubicate all'interno del complesso immobiliare sopraindicato erano allacciate direttamente alla rete elettrica pubblica attraverso l'utilizzo di un dispositivo fraudolento che consentiva di bypassare, di fatto, il contatore. Complessivamente, nel corso dei servizi, sono state contestate anche sette violazioni al codice della strada, identificate 190 persone e controllati 93 veicoli. Restiamo a Catania. Parliamo ancora di controlli effettuati dalle forze dell'ordine, in questo caso dei carabinieri che hanno riscontrato diversi allacci abusivi alla rete del gas. Sono in questo caso quattro le persone denunciate. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nell'ambito dell'intensificazione delle attività di pattugliamento sul territorio, i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, con il supporto del personale della società Catania Rete Gas e della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Catania, hanno messo in atto un articolato servizio coordinato nelle zone del centro cittadino e della stazione ferroviaria, al fine di contrastare l'illegalità diffusa, con particolare attenzione, al fenomeno degli allacci illeciti alla conduttura pubblica del gas e alla guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche. In particolare, gli accertamenti effettuati sui bypass abusivi alla rete di distribuzione del gas sono stati svolti nell'ottica di assicurare un'efficace opera di prevenzione generale volta a contrastare il verificarsi di incidenti potenzialmente estremamente gravi. Proprio in tale contesto, i carabinieri hanno quindi denunciato due cittadini catanesi i quali, nelle rispettive abitazioni di Via Etnea e Via Giuseppe Verdi, avevano collegato direttamente alla conduttura pubblica del gas il loro impianto domestico. Non solo comunque verifiche agli immobili adibiti a civile abitazione. Nell'ambito del dispositivo di controllo messo in campo dall'arma, sono state infatti ispezionate anche attività commerciali, tra cui un ristorante vicino alla Villa Bellini e una struttura sociosanitaria residenziale dedicata ad anziani non autosufficienti e adulti disabili, sita in pieno centro cittadino, allacciate abusivamente alla rete pubblica del gas, con grave rischio di intossicazioni da monossido di carbonio per i fruitori di quelle attività. Il servizio coordinato è stato poi rivolto anche ai controlli alla circolazione stradale, ponendo particolare attenzione a quei comportamenti indisciplinati che più espongono gli utenti della strada sotto il profilo della loro incolumità. Nella circostanza, i carabinieri hanno effettuato anche controlli con l'etilometro al fine di reprimere la guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche. Al riguardo, vicino Piazza Martiri della Libertà, sono stati sanzionati due automobilisti di 26 e 27 anni, i quali, alla guida di auto di grossa cilindrata, sono risultati positivi all'alcol test poiché il tasso alcolemico rilevato nel loro sangue è risultato superiore al limite consentito dalla legge. A entrambi, oltre alla sanzione pecuniaria, è stata ritirata la patente di guida. In totale sono state controllate 97 persone e 62 veicoli e sono state combinate sanzioni per circa 17.500 euro, mentre sei autovetture sono state sequestrate. Si spostiamo a Torrenova, nella Messinese parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e dell'arresto effettuato dai carabinieri di una donna che nella propria borsa era in possesso di diverse tipologie di droga. Durante un'operazione volta a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Sant'Agata Militello hanno tratto in arresto una donna di 35 anni, già conosciuta dalle forze dell'ordine, per il possesso e la distribuzione di droghe. Durante un'apposita attività di controllo nel comune di Torrenova, i carabinieri hanno individuato la donna come una persona sospettata di utilizzare stupefacenti. Di conseguenza hanno proceduto a fermarla e a perquisirla, scoprendo che aveva con sé oltre 350 grammi di hashish, circa 14 grammi di marijuana e più di 6 grammi di cocaina. In aggiunta, nella sua borsa, sono stati trovati due bilancini di precisione e un tritatabacco presumibilmente utilizzato per preparare la droga. La sostanza, insieme ai bilancini e al tritatabacco, è stata sequestrata e inviata ai carabinieri del RIS di Messina per ulteriori analisi di laboratorio. La donna è stata invece arrestata e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata posta ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. All'alto dei carabinieri, butta fuori dal finestrino una borsa, recuperata poi dai militari dell'arma e contenente un chilo di cocaina. Il fatto è avvenuto a Trapani e una 54enne. È finito in manette. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. A soli due giorni dall'arresto di due palermitani nella zona di Misiliscemi, i quali erano in possesso di un chilo di cocaina, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto un 54enne, anche lui palermitano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, all'alto intimatogli dai carabinieri, che stavano eseguendo un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Fulgatore, avrebbe di colpo lanciato dal finestrino un borsello. I militari dell'arma, notato il comportamento anomalo del soggetto, hanno recuperato la borsa che al suo interno conteneva un chilo di cocaina. All'esito dell'udienza di convalida, il 54enne è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Torniamo a Palermo, dove i carabinieri hanno invece effettuato un doppio arresto. Si tratta di due ladri che i militari dell'arma hanno sorpreso mentre rubavano all'interno di un'abitazione. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in arresto un 26enne e una 24enne, entrambi palermitani e già noti alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentato furto in abitazione. I due giovani, in piena notte, dopo aver rotto il vetro di una porta a finestra, si sarebbero introdotti all'interno di un'abitazione a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Gli occupanti dell'appartamento, svegliati dai rumori sospetti, hanno subito chiamato il numero unico di emergenza 112, segnalando che dentro la loro abitazione si erano introdotti degli sconosciuti. Il tempestivo intervento di una pattuglia del nucleo radiomobile ha consentito ai carabinieri di cogliere sul fatto i due, i quali, accortisi di essere stati scoperti, hanno tentato la fuga dal balcone dell'appartamento violato. L'arresto dei due indagati è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto, nei confronti di entrambi, la custodia cautelare in carcere. Doppio intervento dei carabinieri nella Siracusano. Militari che hanno effettuato un arresto a Siracusa e una denuncia a Ferla. I carabinieri della stazione di Cassibile hanno arrestato un 34enne del luogo per evasione dai domiciliari. L'uomo, in detenzione domiciliare per un furto commesso nel 2015, è risultato assente durante un controllo effettuato dai militari dell'arma. Le ricerche, immediatamente avviate, hanno permesso di rintracciare il 34enne in giro per le vie cittadine. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari presso la sua abitazione, così come disposto dall'autorità giudiziaria Aretusea. I carabinieri della stazione di Ferla hanno invece denunciato un 24enne per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. A seguito di perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, di un manganello metallico allungabile e di 7 grammi di marijuana. Le armi sono state sequestrate e il 24enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria Aretusea, nonché segnalato alla prefettura di Siracusa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo ad Acireale, in una basilica cattedrale gremita si è infatti svolta l'Assemblea Sinodale Diocesana. Il servizio. In una basilica cattedrale gremita di Fedeli si è tenuta l'Assemblea Sinodale Diocesana durante la quale sono state consegnate le indicazioni per il nuovo anno pastorale dal tema Una chiesa che cammina con tutti. Ad aprire l'incontro, Don Vittorio Rocca, docente di teologia morale e referente diocesano del Cammino Sinodale, il quale ha illustrato ai presenti la fase sapienziale del percorso del Sinodo. A prescindere da quel che verrà, ha dichiarato, sarà determinante far crescere una mentalità di comunione che deve sempre più radicarsi ed esprimersi nei sacerdoti e in tutti quei cristiani impegnati nelle varie comunità. A conclusione dell'incontro si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica in un clima festoso di ringraziamento per il dodicesimo anniversario di ordinazione episcopale del Vescovo Antonino Raspanti. Al prelato, presente ad Acireale dal 1 ottobre del 2011, sono stati rivolti i filiali auguri da parte del clero e dei presenti attraverso le parole di Monsignor Agostino Russo, vicario generale della diocesi. A sua volta è stato lo stesso Vescovo Raspanti a ringraziare i fedeli durante l'omelia con parole di conforto e affetto. Siamo dove Dio ci pone, ha affermato, e questo significa che lui ci assicura pace, fermezza e solidità, nonostante le difficoltà che si incontrano ogni giorno. Monsignor Raspanti, infine, ha concluso ringraziando il Signore e la comunità diocesana che gli permettono di restare dritto e saldo anche nelle curve che la vita riserva. L'occasione è stata inoltre propizia per dare l'annuncio dell'indizione della visita pastorale che interesserà le parrocchie della diocesi acese nello spirito del confronto e della positiva crescita. Ed ora parliamo di una nuova emergenza che riguarda soprattutto i giovani. La paura di rimanere sconnessi lontani dal proprio smartphone conosciuta come nomofobia o no mobile phone fobia è stata al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi nella sede dell'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali. L'assessore Nuccia Albano, infatti, ha voluto confrontarsi sul tema con Gianfranco Amato, direttore del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Permanente sulle Famiglie della Regione Siciliana. La nomofobia, ha dichiarato l'assessore Albano, oggi non è riconosciuta ufficialmente come un disturbo da nessun manuale diagnostico, eppure è presente in gran parte della popolazione e la cosa più grave è che a esserne coinvolti sono i giovanissimi, con sintomi che sono molto simili a quelli relativi ad altre fobie specifiche, ai disturbi d'ansia e ai sintomi tipici delle dipendenze comportamentali. E compito nostro, ha aggiunto l'assessore, analizzare il problema e coinvolgere le famiglie, spiegando i rischi ai quali si può andare contro, insegnando, soprattutto ai più piccoli e ai ragazzi, a essere responsabili nell'utilizzo dello smartphone e degli strumenti tecnologici. Quello della dipendenza da smartphone e strumenti tecnologici collegati a internet, ha invece affermato Gianfranco Amato, sta diventando sempre più una vera e propria emergenza sociale, i cui riflessi stanno incidendo in maniera preoccupante, soprattutto sulle relazioni all'interno del nucleo familiare. È fondamentale conoscere la reale portata del fenomeno, le possibili cause che ne sono all'origine, le conseguenze, soprattutto nelle nuove generazioni, e i possibili rimedi. La questione è molto seria e riveste aspetti sociali, culturali, politici, educativi, filosofici ed etici, ha concluso Amato. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.